Un grande entusiasmo, la Cireale si rimette al lavoro, oggi è il terzo giorno di lavoro, si riparte con uno slancio diverso, anche con nuovi obiettivi. Gli obiettivi sono sempre quelli che amo l'anno scorso, sicuramente quest'anno se ci sarà l'apporto del pubblico sarà tutto più semplice. Noi siamo qui, ora i primi giorni lavoreremo bene per cercare di essere pronti per le prime partite sin dalla Coppa Italia. Questi sono i giorni più duri, una preparazione molto faticosa ma necessaria per resistere per tutta la stagione. Assolutamente sì, perché in queste due settimane e venti giorni si mette la birra per tutto l'anno. Noi abbiamo uno staff di primo ordine, io ho lavorato con loro l'anno scorso e per tutto l'anno siamo andati bene, quindi dobbiamo solamente seguire loro. Giuseppe, la tua è stata una scelta forte, chiara, il mercato come ogni anno non ti mancava, le offerte c'erano ma hai scelto tu di rimanere, perché? Ma qua siamo un grande gruppo, l'anno scorso fino a un certo punto l'abbiamo dimostrato, siccome qua siamo un gruppo di amici e abbiamo voglia di fare bene a casa, quindi siamo rimasti tutti qua consapevoli di giocarci una carta importante. Sappiamo il valore di questa maglia, quanto pesa e quest'anno vogliamo far vedere che la Ciale è tornata. Grazie a tutti.